Quali sono gli scopi della vostra associazione Bike Garda Trentino? Bike Garda Trentino nasce per una volontà di più categorie economiche, appassionato della bicicletta, che vogliono sviluppare, incentivare la pratica della mountain bike in modo educato, sensibilizzare l'educazione sui sentieri. Ecco che il Garda Trentino, grazie alla sua numerosa rete di sentieri, ha bisogno di un'associazione che curi lo sviluppo e l'incentivo di questa pratica. Quanti soci conta al momento la vostra associazione? Al momento abbiamo tre tipologie e tre modalità per farsi soci, abbiamo dei soci spondatori che sono 20, in questo primo triennio sono il consiglio direttivo, abbiamo poi i soci onorari e abbiamo i soci fan, fan che sono stati pensati e studiati per il turista che fruisce il nostro territorio, quindi che può sostenere la messa a punto dei nostri sentieri, gli eventi che faremo sul territorio. Assessore, qual è il suo parere su questa iniziativa di questa associazione? Direi assolutamente ottimo, l'unione fa la forza ma soprattutto concilia il dialogo, è quello del quale abbiamo particolarmente bisogno in questo momento, già che con una delibera per individuare quali percorsi ciclabili siano adatti anche al walking o siano esclusivamente dedicabili a questo, è fondamentale. E non c'è nessuna norma che possa dare serenità ai territori se non è prima, pregressa, da un momento di dialogo, di incontro. Raggruppare perciò i soggetti che fanno riferimento alla passione per il bike sotto un'unica alea è fondamentale e ci darà una mano ovviamente ad individuare il percorso più condiviso possibile. Le iniziative di questa associazione quali saranno in futuro? Allora abbiamo molte iniziative, vogliamo essere la voce univoca per le amministrazioni, per la comunità di Valle, la provincia, e dare quel supporto tecnico a costo zero fatto da esperti, specialisti del settore per indicare alle amministrazioni come deve essere mantenuto un sentiero piuttosto che traccia aprire e riuscire così ad avere una convivenza fra chi fruisce la montagna a piedi e chi fruisce con la bicicletta. Molte sono altre le funzioni che vorremmo fare, per esempio degli eventi per stimolare anche chi usufruisce il nostro territorio a contribuire nella manutenzione dei sentieri e anche una rete fra tutte le varie associazioni già presenti che hanno ben operato per condividere con loro questa straordinaria disciplina e per poter godere questo magnifico territorio che abbiamo del Garda Trentino.